Ciao, sono la dottoressa Martina Pellegrini, dietista olistica specializzata in scienze della nutrizione umana ed esperta nella salute e nel benessere femminile. Aiuto le donne e le giovani donne a raggiungere il peso forma e il benessere psicofisico con un approccio olistico e integrativo. Oggi voglio parlarti del sadhana, la routine miracolosa che mi ha cambiato la vita. Partiamo dal conoscere questo termine, sadhana. Sadhana è un termine che deriva dal sanscrito e sta a indicare la disciplina spirituale, ovvero tutte quelle pratiche, rituali e riti che svolgiamo con attenzione, concentrazione e regolarità per realizzare la felicità qui e ora. Perché ne parlo? Ne parlo perché il sadhana ha avuto un effetto meraviglioso sulla mia vita sul mio cambiamento, la mia crescita personale che poi si è riflessa anche nel mio benessere psicofisico, nelle mie forme corporee, nel mio atteggiamento nei confronti del cibo, dell'attività fisica, della cura di me stessa, del mio stare bene in mezzo alle altre persone. Quindi è ciò che mi ha permesso davvero, è stato lo strumento chiave che mi ha fatto realizzare tutte le cose belle di cui vado a fiare nella mia vita e che mi fanno avere un grandioso equilibrio. Ti dico com'è iniziato tutto questo. Otto anni fa circa io ero una di quelle che si alzava la mattina all'ultimo minuto per andare a studiare all'università, per fare le sue cose. Ero completamente un po' in balia delle mie giornate, di quello che mi accadeva, senza mai avere effettivamente un attimo per riflettere su ciò che stavo facendo. Andavo un po' così a caso. E avevo diversi chili in più, facevo sempre un'altalena tra le diete e gli allenamenti vari e oscillavo sempre con quei 5-6 chili in più o in meno. Ed ero veramente prigioniera di ciò che mi accadeva e un po' anche delle mie emozioni, di ciò che appunto succedeva e che mi portava magari a mangiare di più o a demotivarmi se non vedevo dei risultati. Ecco, cosa è successo poi? A un certo punto mi sono avvicinata alla pratica buddista. Con la pratica buddista è prevista una recitazione di un mantra per attivare una parte di noi stessi, che è una parte illuminata e che coesiste in ognuno di noi e che permette di permeare tutta la nostra vita. Ecco, io ho iniziato questa pratica e non avevo tempo durante il giorno di farla e ho dovuto creare il tempo e quel tempo per me era la mattina. Quindi iniziai a svegliarmi ogni mattina 10 minuti prima per fare la pratica buddista che poi è una meditazione. Allora, questo piccolo gesto fatto la mattina e al tempo anche la sera ha avuto un impatto enorme, grandioso sulla mia vita. Perché questa disciplina spirituale che io avevo e che mi portava a svegliarmi regolarmente 10 minuti prima ogni mattina e quindi era proprio per me un rituale fatto di una recitazione di un mantra e di un altro piccolo rito recitato mi ha permesso poi da lì in avanti di provare sicuramente una gioia veramente grande nelle mie giornate. Di gestire molto meglio lo stress e fronteggiare ciò che mi accadeva e di avere molta più consapevolezza della mia emotività e di conseguenza anche gestire molto molto meglio il mio rapporto con il cibo il rapporto con il mio corpo e con l'attività fisica. Da lì cominciai ad avvicinarmi a letture come la Miracle Morning. Forse avrei sentito parlare della Miracle Morning che è una routine che si fa la mattina un'ora prima del classico risveglio in cui si fanno tutta una serie di attività proprio in una sorta di Sada, una disciplina spirituale. Quindi da lì cominciai ad inserire studio e la lettura quindi a svegliarmi sempre prima per leggere, studiare, per praticare la visualizzazione le affermazioni, per scrivere il diario e per fare proprio un planning preciso della giornata che mi aspettava. Questo ha dato ancora una volta un'accelerata alla mia vita quindi se prima quei dieci minuti mi avevano stravolto poi mano a mano che aumentava il tempo dedicato a questa disciplina spirituale stava facendo veramente fiorire tutta la mia vita e quindi mi ritrovavo ad essere più felice, più consapevole più capace di gestire le situazioni che mi si presentavano non che le sofferenze non arrivassero non che non ci fosse più motivo di discussione con qualcuno che poteva provocarmi tristezza o rabbia ma ero molto più capace da lì in poi di gestire questa cosa e quando avevo un fallimento da lì ho cominciato ad essere sempre più capace di cadere con dolcezza e rialzarmi con coraggio e forza in sempre meno tempo. Ma questa pratica deve essere per forza fatta la mattina e qui veniamo al concetto di Sadhana che sostituisce quello di Miracle Morning perché sì, la mattina ha tanti benefici almeno per quello che ho visto anche io i benefici sono sicuramente il fatto che la mattina per molte persone è il momento in cui c'è più calma, pace, tranquillità non ci sono telefoni che suonano non c'è il traffico, non ci sono tante cose ed è il momento in cui proprio ci sembra più possibile più naturale di riuscirsi a dedicare a noi perché è proprio un tempo che noi ci creiamo è uno spazio che ci creiamo è anche vero che non è che per forza è solo quello il momento in cui lo si può fare anche perché non siamo tutte uguali c'è chi ha una vita magari diversa magari penso a chi lavora su turni chi lavora appunto la notte che non è che si può permettere di stare la mattina sveglia un tot di tempo a dedicarsi a se stessa quindi sebbene la mattina sia sicuramente molto consigliata perché ti dà proprio uno sprint e una carica per affrontare la giornata che verrà in realtà non è solo quello il momento migliore appunto i limiti li abbiamo visti dipende dalla persona, dai tipi di vita che fa ed è per questo che io piuttosto che parlare consigliare anche di fare una miracle morning consiglio di parlare piuttosto di sadhana appunto che è la disciplina spirituale in sé che può essere intesa e personalizzata in base alle proprie esigenze bisogna proprio cogliere il senso è questo che io vorrei trasmetterti il senso è proprio quello di creare dei sadhana che sono degli spazi piccoli o grandi oppure progressivamente che aumentano o che diminuiscono in base alle necessità che sono giornalieri e settimanali dedicati interamente alla cura della propria interiorità e ti posso garantire davvero che se adesso sei un po' scettica e ti sembra che non hai tempo e che te ne porterà via in realtà quel piccolo spazio di tempo che sceglierai di dedicare a te stessa a ricentrarti è quello che permetterà di dilatare enormemente il tempo che ti rimane poi nel resto della giornata perché vivrai veramente al massimo tutto il resto e riuscirai a trasformare molte cose ti ritroverai a fare cose che prima non avevi neanche idea riuscirai a organizzare e gestire molto meglio il tutto e questo vale anche se hai bambini piccoli un lavoro super impegnato e stressante anzi per te ancora di più il punto è che la tua giornata la tua settimana e la tua vita le conosci solamente tu e tu se guardi con oggettività obiettività la tua settimana e le tue giornate sai quali possono essere i momenti da dedicare a te stessa non importa partire a bomba anzi non serve proprio io per tanto tempo sono andata avanti con 10 minuti tenuti stabili ogni giorno quindi puoi fare anche tu in questo modo ciò che vorrei trasmetterti è proprio l'importanza di creare dei tuoi rituali sacri e sacrosanti perché nella nostra società questo concetto si è molto perso è tutto di rincorsa tutto spedito non si ha più tempo e voglia di fermarsi e creare qualcosa di proprio e che ci permetta di guardare dentro e non solo fuori quindi è il momento di tornare a quel rituale che invece ci ha caratterizzati per millenni inserire dei rituali dei sadhana nella tua settimana nella tua giornata ti permetterà di avere tantissimi benefici come quelli che ti ho detto prima quindi maggiore energia capacità di gestire lo stress benessere, tono dell'umore più alto capacità di gestire l'emotività più tempo da dedicare al tuo benessere mangiare meglio riuscire a seguire un'alimentazione più sana a riuscire ad ascoltare meglio il tuo corpo a organizzare il tuo piano di attività fisica e tutto ciò che riguarda la tua vita tu hai dei rituali e mi hai provato a fare una sorta di sadhana quindi una disciplina da svolgere con regolarità e rispetto da onorare? fammelo sapere in un commento e se sei curiosa di sapere come armonizzare in questi termini alimentazione, movimento e cura di te stessa per dimagrire in modo definitivo premi nel link qui sotto al video e ricevi le 4 lezioni totalmente gratuite estratte dal mio videocorso Energy Woman il corso che ti guida passo passo alla realizzazione del benessere psicofisico e del dimagrimento definitivo